Per un Verona che si è ripreso tre punti con gli interessi? Direi proprio di sì, abbiamo fatto una grandissima partita, dopo 20 secondi eravamo già in vantaggio, abbiamo sciuppato parecchie occasioni, ma direi che la partita l'abbiamo sempre avuta in mano noi. Il risultato è strameritato, anzi forse ci penalizza un po' perché abbiamo avuto tante altre occasioni. Direi che ho visto un gran Verona, ho visto una bella partita, ma soprattutto mi è piaciuta la squadra per la prova di carattere che ha dato. Dobbiamo fare la stessa cosa anche sabato prossimo per raggiungere quello che è il nostro obiettivo. A Como bisogna fare l'ultimo sforzo per tornare in Europa? Sì, certamente, non sarà facile, il Como è comunque una squadra ostica, ha fatto degli ottimi risultati in casa, ma noi dovremmo avere le motivazioni giuste, anche perché questo è un obiettivo a cui volevamo arrivare e dobbiamo centrarlo assolutamente. Diane, vittoria doveva essere, vittoria è stata? Come ancora stiamo dicendo, la nostra corsa continua. Abbiamo ancora il Como per finalizzare questo grande lavoro che stiamo facendo e dobbiamo ancora lavorare. La vittoria di oggi è stata bella, ma comunque è un passato già, dobbiamo lasciare e lavorare questa settimana per riuscire a portare i tre punti di Como a casa e così prendere la vaga a Champions. Certo che chi ha visto Brescia-Verona dell'andata, insomma, sembra quasi da non crederci, è diventato più forte il Verona, forse non è nel miglior periodo il Brescia. Come ho detto questa settimana in una intervista, quando si monta la testa, è difficile. Ho sentito tanta cosa in questa settimana, di che andava qua e fatteva 3 a 0, 4 a 0, 2 a 0, come andata. Ma qua, qua siamo noi, siamo in Verona e sempre vogliamo rispetto qua. Venire qua con i pensieri di chi già ha vinto, è stato sbagliato di Brescia. Comunque, auguri a tutta la mia squadra che ha giocato un bello calcio oggi. Carolina, quattro gol, tra l'altro con una tua doppietta personale. Dicevamo quattro gol, ma altrettanti sbagliati, un Verona dilagante. Sì, abbiamo giocato una gran partita, l'abbiamo chiusa subito, nel primo tempo. È stato importante questo, appunto, di chiudere subito la partita. Ne abbiamo parlato tutta la settimana e siamo entrate con la mentalità giusta, finalmente. Adesso bisogna completare l'opera. Sì, abbiamo sabato il Como e cercheremo di iniziare, come abbiamo fatto oggi, di iniziare subito la partita in modo aggressivo e di chiuderla nel primo tempo.